Anset Tonica, un gioco del 2009 particolarmente apprezzato per la sua particolarità di regolamento, molto semplice, molto veloce, ma per niente banale, un gioco di piazzamento lavoratori di Andrea Standing. Quella che vedremo ora è Anset Tonica, la versione Big Box. Qual è la differenza fra quella normale? L'ho scartata per la prima volta in questo momento e ci sono delle tessere, un mazzo di carte e delle tessere in più, che è una piccola espansione, il libretto per segnare i punti vittoria, ma sicuramente la più importante, la più interessante di espansione, sono tre mappe differenti. In realtà questa qui è quella base, poi c'è anche questa e il retro di quella lì, che sono altre due mappe aggiuntive. Questa si può giocare solo in tre giocatori, quella lì si può giocare da tre a cinque giocatori. Questo è un gioco particolare per quale motivo? Perché è molto interessante l'interazione che si crea fra i vari giocatori, veramente molto particolare. Mentre su molti giochi il fatto che un altro giocatore ti possa dare fastidio, può dare fastidio personalmente, qui invece lo fa in una maniera molto molto interessante. La mappa base è per tre, quattro e cinque giocatori, lo vedete scritto qui. Il piazzamento iniziale, adesso lo stiamo vedendo, sulla mappa è piazzare le tre tessere bonus coperte, nascoste, ok? Quindi mischiate sulle tre città presenti, sono queste, con la freccia rivolta verso la strada. Ok? Ecco la seconda città. Chiedo scusa, deve essere coperta, ah no. Vanno piazzate a caso nel senso coperte, poi si scoprono per vedere l'effetto del bonus. E questo, dove, qui c'è la terza città. Il piazzamento del tapellone è già fatto. Il quadratino nero va nello zero, per segnare le città completate. Scanziamo la mappa dell'espansione per fare un po' di spazio, e magari anche un po' di ordine. E spieghiamo la preparazione della casella personale. Allora... Allora, a partire dal primo giocatore, si mettono, si dà un segnalino rotondo a testa, e poi a partire dal primo giocatore, cinque piedine che possono adoperare, poi sei, sette, otto e nove, a secondo fino al quinto giocatore. Poi si coprono gli spazi sulle plancia, tutti tranne il primo, per ogni track che è presente sulla plancia. Da qui si può iniziare a giocare. Come? Ovviamente i quadratini, i segnalini vostri avanzati, vanno nella riserva generale. Questi qui sono quelli che potete adoperare. E questo qui è il livello per ogni azione che avete, segnalata sul tabellone. Adesso, a partire dal primo giocatore, ogni giocatore ha tre mosse da fare, che può combinarle come vuole. Ok? Ah, no, vi chiedo scusa, mi sono sbagliato. Ha delle azioni da fare. Quante? Allora, iniziamo con due azioni. Per quale motivo? Perché è scoperta la tessera con due azioni. Se voi nel corso della partita riuscirete a scoprirle tutte, oltre a fare quattro punti bonus per aver finito la track, farete cinque azioni a turno. Ok? Allora, in queste due azioni, una delle azioni, allora, innanzitutto, le azioni stanno riassunte tutte qua sotto. Quindi andremo in fila a spiegarle. Prima azione. La prima azione, come vi stavo dicendo, è la pesca dalla riserva, che è questa track qui. All'inizio della partita voi potrete pescare tre tessere della vostra riserva e piazzarle qui, per poterle adoperare, fino ad arrivare a C, che sarà complete, cioè tutte quelle che stanno stanno nella riserva e le potrete piazzare. Seconda azione. Posizionare i vostri segnalini, quindi sia rotondo che quadrato, perché in questo caso, nel caso del posizionamento, valgono uguali. Nel tabellone, qual è la regola per piazzamento? Non c'è una regola, nel senso, piazzate come vi pare. negli appositi spazi. Andremo a vedere. Abbiamo detto che abbiamo due azioni, anche se una ho fatto, ho ripreso tre pedini dalla riserva. Mettiamo che ne ho due, devo piazzare in questi spazi qui, non nella città. Nella città va, piazzate successivamente, vedremo come. Quindi, nei percorsi delle strade, come volete voi. Quindi, se iniziate qui, non è detto che per forza dovete continuare. Potete anche piazzare qui. Sto facendo a caso. Ok? Piazzare le vostre pedine, i vostri cubetti, nel tabellone, costa un punto azione per ogni elemento che piazzate. Quindi, nei primi turni, saranno due elementi a turno. Ok? Poi, scacciare, quindi piazzare scacciando gli avversari. Questo è un tipico esempio. Tocca al rosso. Per poter completare questa strada, deve essere tutta di un colore. Ok? E quindi, volendo, potete scacciare anche pedine di altri colori. Come si fa? Allora, l'azione costa sempre uno. Mettere un cubetto costa sempre uno. Di fatto, però, se voi scacciate un avversario, e questa è la parte interessante del gioco, voi dovete, avete tolto un cubetto, dovete togliere un cubetto. Dovete scattare un cubetto. Quindi, questa azione vi costa due cubetti, anche se è un'azione sola. in più, l'avversario potrà ripiazzare, questo è molto importante, in un percorso adiacente, quindi non potrà piazzarla dove gli pare. Le pedine scacciate dovranno essere ripiazzate su percorsi adiacenti. Questa strada continua in qui, da questa parte, da questa città, continua da questa parte, da questa città, continua qui e qui. Quindi, lui potrà piazzare o qui, o qui, o qui. Su una di questi tre percorsi. Adesso faccio a caso e metto qui. In più, prenderà un'altra pedina dalla riserva e la piazzerà qui. Mentre il rosso, quindi, per fare questa azione, ha adoperato due pedine di quelle sue disponibili, il verde ha soltanto spostato la sua presente nel tabellone e in più aggiunto una pedina della riserva senza consumare le proprie. Scacciare le pedine. In questo caso, invece, il verde, per poter completare, quindi per poter essere su alla strada, diciamo così, e poter fare successivamente l'azione, deve scacciare la pedina, ma in questo caso non è quadrata, è rotonda. La pedina rotonda può essere scacciata da una quadrata, ma attenzione, la rotonda vale in questo caso due, quindi il verde dovrà mettere una pedina qui, ma dovrà prendere due pedine dalla sua riserva e metterle nella riserva generale, quindi per fare questa azione, lui ha sprecato due pedine della riserva personale, e in più il rosso piazzerà sempre su una strada adiacente, quindi o questa o altri, e in più ne pescherà altri due, perché siccome questa tessera qui ne vale due in questo caso quando viene scacciata, ne prenderà due dalla riserva e ne aggiungerà due, la quarta azione che spiegheremo saranno i libri, che è questa track qua, allora, che cosa fa questo? Ti permette di, con un'azione, di spostare delle pedine dal tabellone da dove vuoi a dove vuoi, in pratica riordinare le tabelline sul tabellone, quante? Se hai libera la prima casella ne riordini due, oppure tre, quattro o cinque, che cosa significa questo? andiamo a vederlo a livello pratico, tocca a me, io sono il rosso e ho libero in questa maniera, quindi posso spostare fino a tre pedine, tocca a me, con un'azione sola, io prendo tre pedine dal tabellone e le ripiaccio una, due e tre e ho complicato una strada, ok? Questo tipo di spostamento non può includere lo scacciare un'altra pedina, quando si spostano delle pedine da una parte all'altra non potrà mai scacciare un avversario. l'ultima delle azioni è completare la strada che adesso andremo a vedere nello specifico. Tocca a me per completare una strada io devo avere le pedine su tutte le caselle di quella strada, in questo caso in questo punto la ho e quindi completo la strada. Che cosa faccio in pratica? Le pedine che stanno sulla strada io le tolgo in teoria, le metto nella riserva generale e completo. In questo caso posso fare tre scelte. Mettere, completare una città qui, completare una città qui oppure prendere il favore. Nel tabellone di gioco ci sono cinque punti uno, due, tre, quattro e cinque dove sono rappresentati proprio gli stessi stemmi della plancia. Ok? Li andiamo a vedere nello specifico e sono queste sono le azioni. C'è la busta chiusa. Quindi completando questa strada qui tu puoi scegliere se mettere la pedina sulla città poi vedremo oppure prendere il favore del re. Quindi le scarti e semplicemente togli una pedina una pedina da qui togli le tre pedine dalla città dalla strada scusate e liberate una pedina dalla track delle azioni. In questo caso dal prossimo turno avrete tre azioni a turno. Questa pedina tolta da qui la potete utilizzare. ok poi ci sono altri le altre track che vi dicevo questa è la chiave che sarà questa track questa poi ci sono i colori vedete che sarà questa track la borsa il sacchetto che sarà le pedine che voi recupererete e in alto all'angolo ci sono le pedine rotonde che serviranno per spostare sul tabellone questa track qui effettivamente non è una track ma è solo un modo per fare punti quindi se metterete qui farete sette punti nove punti undici punti in questo caso completo una strada e siccome che questo castello ha il favore delle azioni io posso anche decidere di fare le azioni di liberare le azioni come ho fatto vedere prima se non lo voglio fare posso decidere di togliere queste tre metterle nella riserva generale ma una di queste tre conquistare un castello che sarà che cosa significa ogni castello ha delle pedine colorate e anche degli spazi con dei cerchietti dove voi potrete mettere le vostre pedine da quel momento in poi chiunque completa una strada sia a destra in questo caso sia a destra che a sinistra e il castello appartiene a voi voi fate un punto ogni volta che qualcuno completa una strada oppure tu metti la pedina qui sul castello fai no no mi chiedo scusa mi sono sbagliato in questo caso non fate il punto qui fate il punto solo quando completate anche se siete voi completarlo attenzione perché il castello vi potrebbe essere spodestato in questo caso in questa maniera il verde completa la strada quindi completa vi fa fare un punto a voi ma decide di mettere invece che prendere il favore questo decide di mettere la sua pedina qui ci dovrà mettere la rotonda perché su questa casella specifica è richiesta come caratteristica la pedina rotonda non ci potrà mai essere altro le caselle colorate non è altro che la richiesta del colore libero quindi voi potrete mettere nelle caselle arancioni solo se avete liberato il colore arancione rosa o nero ok e sul tabellone troverete caselle quadrate o rotonde a seconda della pedina o del quadratino e del colore scelto ok il castello allora una città si considera completa quando tutte le caselle sono completate di quella città in questo caso avanza questa track a che cosa serve questa track perché alla decima città completata completata significa non in questa maniera ma completa con tutte le caselle piene in questo caso è facile perché ce n'è una sola e deve essere rotonda ok ma in tutti gli altri casi ci sono più spazi da completare quando tutte le le caselle le città tutte le città sono piene il gioco si ferma immediatamente attenzione non si continua il turno il primo che completa ferma la partita e poi tre particolari della mappa ci sono due città segnalate in rosso ai lati il primo che mette le case in sequenza quindi su questa casa poi continua qui poi continua va qui poi continua può andare anche sopra ma comunque le concatena sono unite tutte e vanno su questa su quest'altra casa no il primo chiedo scusa sì il primo che lo completa fa sette punti il secondo ne fa quattro il terzo due punti aggiuntivi oltre quelli che si daranno a fine partita ovviamente in questo gioco non l'ho detto all'inizio ma forse voi non ci crederete ma vince chi fa più punti allora un altro aspetto interessante sono le tessere bonus che non sono altro punti aggiuntivi sono delle azioni aggiuntive ok particolari aggiuntive come si prendono queste tessere si deve completare la strada dove è presente la tessera in questo caso il verde ha messo qui completa la strada in questo caso non va non libera spazio sulla plancia perché queste due città non hanno i bonus questi quindi deciderà di mettere un cubetto sul bianco ad esempio appena che mette il cubetto sul bianco conquista diciamo così la strada conquista la città e prende la sua tessera bonus ogni tessera fa degli effetti particolari che li vedrete sul regolamento adesso non li spiego nel dettaglio però sono abbastanza intuibili diciamo inoltre appena uno prende una tessera ed è questo molto importante ne ripesca subito un'altra a caso e la piazza l'importante è che la possa piazzare su una strada dove non c'è nessuno non ci può essere nemmeno una una pedina occupata quindi devono essere tutte libere qui non potrà metterla qui si è consigliabile di mettere la freccia indicando la strada perché ad esempio se questa tessera va messa qui non si capisce se è questa o questa di strada la freccia serve ad aiutare a capire questo e il prossimo che completerà questa strada si prenderà questa tessera e farà altrettanto l'ultima parte un po' particolare di questo tabellone è questo percorso qui chi completa questo percorso ovviamente dovrà mettere o tutte tessere quadrate per conquistare questo o questo cioè una delle due parti della città una delle due città oppure può adoperare il bonus di questa città quindi invece di mettere il quadrato qui dovrà utilizzare una di queste quattro rotonde dovrà posizionare almeno una di queste quattro che dovrà essere rotonda per poi quando completa dovrà posizionarla su una di queste a seconda del colore libero che ha quindi se ha solo le bianche libere potrà mettere qua se è arrivata a liberare tutti gli spazi potrà mettere qua e prendere 11 punti invece che il 7 attenzione perché se le ha libere tutte e riesce a mettere due volte fa 11 più 9 più 8 o più 7 ok i punti vittoria a fine partita appena che finisce la partita e la partita finisce in due modi soltanto il primo sono le città completate il secondo si inizia da 0 punti e il primo che arriva a 20 punti fa finire la partita immediatamente non si finisce il turno quindi se io sto a 19 con un'azione conquisto una strada metto una città ad esempio qui un cubetto qui e questo cubetto mi fa fare un punto cioè ha disegnato proprio il punto in quel caso lì faccio da 19 vado a 20 e finisce immediatamente la partita gli altri non giocano più adesso come si contano i punteggi sul tabellone allora innanzitutto per ogni città si conta due punti per ogni città posseduta in questo caso fa due punti il verde 4 non è posseduta 6 8 10 per quale motivo non è posseduta perché la possiede il rosso adesso vedremo come in questo caso quindi abbiamo detto che il verde fa 10 punti 1 2 3 4 5 per 2 10 vale 2 punti ogni città posseduta cioè chi ha la maggioranza in quella città la maggioranza si conta o per quantità in questo caso sicuramente il viola ha la maggioranza su questa città o in caso di parità chi sta più a destra perché è più difficile da metterci ovviamente sulle bianche ci mettono tutti sulle nere devi liberare tutto il colore dicevamo in più in questo caso il verde fa 10 punti in più poi si fanno anche i punti per il numero di case concatenate insieme facciamo l'esempio del viola qui ne è una poi va qui poi da qui va qui è la terza poi da qui va qui è la quarta da qui va qui è la quinta 5 per il numero di chiavi che è riuscito a sbloccare in questo caso il viola ne ha sbloccata soltanto cioè ci ha sbloccata solo quella base quindi farà 5 per 1 5 se questa era la situazione faceva 5 per 3 faceva 15 più se aveva collegato le due città rosse faceva 7 4 o 2 punti a secondo più fa 2 punti per ogni città che è conquistata sua quindi in questo caso era abbiamo detto 5 più 2 7 2 9 perché la città è sua 2 11 perché la sua più 2 13 e questa invece non era la sua ho fatto un errore prima vi chiedo scusa allora ho detto che si contava i cubetti poi moltiplicato per il moltiplicatore qui in questo caso è 1 2 3 in questo caso l'avevo fatto proprio apposta all'esempio si conta 4 5 6 più 1 7 questa città darà solo 2 punti per la così dice la maggioranza ok però conterà il numero di cubetti quando si andrà a fare la moltiplicazione quindi quando si conterà in pratica la strada tra virgolette io le chiamo la strada più lunga sarebbero le città concatenate quelle con cui hai i cubetti collegate una con l'altra se ci fossero altri cubetti viola qui e qui conterebbe solo quelli più lunghi ok quello più lungo in questo caso qui sarebbe 2 unite insieme questa non è unita qui ce ne sono altre due unite insieme invece qui ce ne sono 5 conterebbe solo quella da 5 ed ora buon gioco a tutti grazie a tutti grazie a tutti